uno pensa mai una gioia nella vita mai una buona notizia poi in effetti non è così arriva il giorno in cui ti arrivano le notizie favolose la prima è questa l'arresto di Ghislaine Maxwell la compagna di merende di Epstein e chissà ora in galera canterà vedremo la seconda notizia è quella che riguarda la passionaria delle coppie LGBT il cui fratello e il cui nipote fanno parte della camorra una brutta tegola sulla testa riccioluta della signora ricordate il film Hostel parlava di un'associazione segreta detta ai rapimenti alle uccisioni e alle torture in tutto si svolgeva nei paesi del l'est se non ricordo male nella Slovacchia ebbene qualcosa di sinne sta avvenendo fuori ora tra Olanda e Belgio anche in questo caso le notizie sono scarse e diciamo rare sappiamo solamente da un articolo del Corriere della Sera che ci sono stati centinaia di attesti anche in in questo caso vedremo ed eccoci dalla fantasia alla realtà questo video è ripresa l'irruzione della polizia olandese in questo villaggio dove sono ci sono alcuni container e come vedremo nel video erano adibiti a sale di torture e di violenze come potrete vedere in questo video sale di tortura insonorizzate ci sono gli strumenti che come avete visto sono ben visibili nel film Hostel strumenti che servivano naturalmente a creare situazioni terribili di violenza e di tortura verso le vittime che venivano riprese da telecamere e che trasmettevano in remoto anche questa è una notazione molto significativa vedremo vedremo anche in questo caso ma andrà a finire anche se temo tutto andrà un po' nascosto e coperto in ogni caso l'identità degli arrestati non si conosce tutto è mantenuto nel segreto più ferreo infine buone notizie dall'italia scoperchiata una rete di pedofili che si scambiavano in maniera avete delle immagini terribili tra la quali c'erano una roma Zein cose in quale i giorni in denno e cose indicibili io mi auguro che tutto questo abbia un termine se è vero com'è non è vero che dall'arresto della Ghislain a Maxwell tanti cose potrebbero cambiare nel mondo visto che la signora e il suo ex compare erano al vertice della piramide pedo-satanista. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.